Poche ore dopo l'annuncio della morte di Nelson Mandela, il duca e la duchessa di Cambridge assistevano alla prima del film Mandela, lunga marcia verso la libertà, interpretato dal britannico Idris Elba nel ruolo di Mandela. Un grande uomo, la sua è una grande storia e mi auguro che sia di esempio ad altri. Diretto da Justin Sandwick, il film ripercore la vita di Mandela dall'infanzia in un'area remota del Sudafrica attraverso gli anni di lotta all'apartheid, fino ai 27 anni di prigionia e alla sua elezione come primo presidente nero nel 1994. All'uscita dalla proiezione del film, il principe William ha fatto questa dichiarazione. Vorrei dire che naturalmente è una notizia triste e tragica. Noi vogliamo solo ricordare quale uomo straordinario e ispirato fosse Mandela. Adesso i miei pensieri e le mie preghiere vanno a lui e alla sua famiglia. Il film è stato diffuso da poco in Sudafrica e ha già battuto tutti i record al botteghino. L'opera è in distribuzione anche in Europa.